Dopo circa 70 giorni di carcere non c'è più il rischio di reiterazione del reato. Con questa motivazione il giudice per le indagini preliminari, Emanuela Carrabotta, ha accolto la richiesta di scarcerazione presentata dal legale di Massimo Tortorici, Giuseppe Panepinto. Così Tortorici lascerà il carcere e finirà gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. L'uomo è una delle cinque persone coinvolte nella rissa del 25 novembre scorso a Caltanissetta, dove ha perso la vita il fratello Marcello. Secondo le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sarebbe stato Kevin Fiore, con una coltellata, a causare la morte di Marcello Tortorici. Intanto il 22 febbraio è stata fissata l'udienza di Massimo Tortorici per il patteggiamento della pena di due anni e sei mesi. L'accusa è di rissa e lesioni con l'aggravante dei futili motivi. La lite sarebbe scaturita da un apprezzamento non gradito alla fidanzata di Fiore da parte del figlio di Millaci e avrebbe coinvolto i componenti della famiglia Tortorici e quelli della famiglia Fiore, con il tragico epilogo della morte di Marcello Tortorici e del ferimento di Roberto Millaci. La sera della rissa tutti i protagonisti sono stati arrestati dai carabinieri e trasferiti in carcere. Kevin Fiore con l'accusa di omicidio premeditato. Gli altri 4 per il reato di rissa aggravata e lesioni.